Il mondo parla il linguaggio dell'economia. Globalizzazione, welfare, credit crunch, no profit sono solo alcuni dei termini che ormai stanno entrando a far parte del linguaggio comune. L'economia inoltre influenza le relazioni sociali e politiche, le scelte e i comportamenti delle famiglie e degli individui, orienta gli atteggiamenti culturali. In un mercato sempre più globalizzato la concorrenza tra i sistemi economici aumenta e la ricerca della competitività diventa un obiettivo stringente per conseguire sviluppo e occupazione. La Facoltà di Economia raccoglie questa sfida coniugando una tradizione lunga e illustre con un corpo docente di eccellenza, un'offerta formativa completa, articolata in corsi di studio trennale e magistrali, elevati standard nella ricerca, e una rinnovata propensione internazionale costituita da un'offerta didattica in lingua inglese ampia ed articolata. Istituita nel 1906, oggi è una struttura moderna, accogliente ed efficiente, che ha raccolto in maniera propositiva le sfide poste dai cambiamenti e ha continuato nel tempo ad esprimere costantemente laureati di grande valore. La formazione presso la Facoltà di Economia prevede materie appartenenti ad ambiti disciplinari diversi, economico, tecnico-gestionale, giuridico, matematico-statistico. Ciascuno di questi sviluppa abilità significative che si esaltano in un progetto formativo unitario. Inoltre, grazie alla presenza di un ampio insieme di accordi di doppio titolo con importante università estere e alla mobilità offerta dal programma Erasmus, gli studenti possono accedere ad esperienze di studio all'estero dall'elevato contenuto formativo. Quello del laureato in Economia rimane nel tempo un profilo che viene costantemente richiesto dalle aziende per l'inserimento all'interno dei loro ranghi. La laurea in Economia dà inoltre accesso a diverse libere professioni e consente ovviamente di partecipare ai concorsi della pubblica amministrazione. La Facoltà, attraverso uno specifico ufficio appositamente dedicato, sta investendo molto nel rapporto con le aziende in modo da poter fornire ai suoi laureati una vetrina di prestigio al fine del loro inserimento lavorativo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!